Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli Cominciamo dall'autostrada Ena 1 con dei attratti per traffico verso nord tra Firenze Nord e via 1 variante Ena 11 con dei attratti tra Pistoia e il Bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze per Etola Qualche problema in Fipili per incidente 4 km di coda stabili tra la Strassigna e Montelupo in direzione Mare Verso Firenze permangono code attratti per viabilità esterna che non riceve tra Ginestra e Firenze Scandicci Per la cantieristica sono in corso interventi sulla SR302 Presighelle Seravennate in prossimità della curva di Rugginara Tutti i dettagli sui nostri canali social E prima di salutarci per il TPL informiamo che parte ufficialmente oggi la linea 31 di Autolinea Toscane che collega San Gimignano e Volterra Può avere sì in Toscana infoservizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze Per ora è tutto, buon viaggio